Buonasera, brividi nati. Buonasera, brividi nati. Buonasera, brividi nati. Buonasera, grazie alla nostra ospite che ci fa un dono ad essere qui con noi il 24 dicembre. Elisabetta Dami, buonasera e benvenuta. Grazie dell'ospitalità, sono veramente molto felice di essere qui con voi oggi. Mi sento già a casa ed è bellissimo oggi parlare di emozioni anche perché è un momento natalizio in cui si è più aperti a questo. E poi con le emozioni siamo entrati con questa carezza di Judy Garland, Over the Rainbow. Perché ha voluto salutarci così? Perché è una canzone che a me parla sempre di speranza e la speranza è proprio una chiave di Geronimo per parlare ai ragazzi, per ricordare loro l'importanza di un sorriso anche nei momenti difficili. E infatti proprio questo è uno dei segreti della sua nascita che poi magari vi racconterò. Certo, però io prima vorrei capire il 24 dicembre per lei cosa rappresenta e poi cosa fa abitualmente il 24 dicembre quando non è ospite dello specchio. Per me il Natale è un momento magico perché nel cuore, proprio come Sainte-Exupery, sono rimasta bambina come Geronimo. E quindi è un momento nel quale mi piace ritornare alle emozioni, ai buoni sentimenti che mi ricordano quando ero piccola in famiglia. E in particolare il ritorno al ricordo bellissimo del Natale che passavo con i miei nonni a Sanremo. mio nonno era un medico che arrivò a visitare i suoi pazienti fino a 93 anni ed era amatissimo perché era molto generoso e curava gratis i pazienti che non potevano pagare. Per cui nei giorni precedenti al Natale la porta suonava continuamente e mia nonna andava ad aprire tutta orgogliosa e mi diceva vedi come vogliono bene al nonno Eugenio perché arrivavano coltivatori diretti con frutta, verdura, uova, arrivavano tanti pescatori perché eravamo a Sanremo che portavano pesci di ogni tipo e mia nonna mi diceva vedi ricordati che la vita vale per ciò che possiamo dare agli altri e che è bellissimo aiutarli perché poi i gesti di amicizia ritornano sempre. Quindi per me il Natale è questo ricordo di emozioni positive e di valori condivisi, di amore, di affettività. Ed è anche per questo che lei, memoria di questi ricordi, vuole poi aiutare il 24 dicembre le persone che frequentano le menze dei poveri. Sì, per me tra le tante attività di volontariato che faccio e che mi piace molto condurre proprio anche per dare un esempio ai ragazzi mi piace ricordare ai ragazzi l'importanza di non pensare solo a se stessi ma anche agli altri perché più si dà e più si riceve e in questo sta la bellezza del volontariato. Io passo sempre il Natale, la messa natalizia, insieme agli ospiti della messa francescana di Via Farini a Milano. Ed è bellissimo condividere questa emozione del Natale insieme a tutti questi ospiti che per noi sono amici e che ci facciamo compagnia a vicenda. E devo dire che tanti dei miei migliori amici li ha incontrati proprio facendo volontariato in tante delle iniziative che seguo. Allora, noi dobbiamo giustificare una delle leggi televisive, dice che se si vede qualcosa bisogna poi giustificarla. Tra l'altro in accordo con la sua giacca, cromaticamente ci sono delle corrispondenze fra la bachelite di questa Olivetti e la sua giacca si è vestita come tributo alla Svizzera o al Natale? Tutte e due. Tutte e due, entrambe le cose. Allora, questa l'ha trovata sotto un albero di Natale quando era bambina? Questa l'ho portata perché per me è un ricordo carissimo del mio settimo Natale. Mio padre mi regalò questa macchina che è una Valentine, ormai un pezzo di design dell'Olivetti e mi disse adesso puoi cominciare a scrivere le tue storie. E io mi buttai immediatamente a scrivere la mia prima storia che era su un orsetto, l'orsetto Teddy, che io amavo moltissimo e devo dire che da allora mi ha accompagnato nei miei tantissimi traslochi e mi ricorda tante cose. Mi ricorda lo spirito del Natale, mi ricorda come la creatività a volte aspetti solo un'occasione per svilupparsi come un fiore, per cui io incoraggio sempre i ragazzi a dare libertà ai loro sogni, alla loro creatività e l'incoraggio sempre a esprimersi come ho potuto fare io prima di tutto con la macchina da scrivere. Oggi ci sono i computer, ma scrivere e scrivere. Io scrivo col computer, però scrivo tanto anche a mano, devo dire, perché quando mi capita di essere per esempio in Africa o su una barca o in qualche luogo un po' selvaggio in un viaggio, porto sempre con me tanti tacuini su cui appunto tutte le emozioni che sto vivendo in modo poi da poterle trasmettere in modo efficace ai miei lettori, perché il segreto è l'emozione. Quello che lei sperimenta personalmente poi viene riversato nei libri di Geronimo Stilton. Allora il papà le ha regalato questa perché papà Dami, che nel 72 poi ha fondato una casa editrice, la Dami Editore, le ha regalato questo oggetto instradandola praticamente su quello che poi lei farà con un successo pazzesco, perché io sono molto onorato e anche emozionato di avere questo oggetto, questa Olivetti su questo tavolo perché tutto è partito da qui, da questa macchina da scrivere e lei è seconda solo alla Rowling, penso, di Harry Potter come numero di copie vendute nel mondo. Tutto è partito da lì. Come era suo padre? Che atmosfera si respirava in casa? Dunque mio padre in realtà con quel regalo mi stava dando anche un altro messaggio subliminale, comincia a impegnarti fin da presto perché il lavoro è tanto. Infatti io a 15 anni cominciai già a correggere bozze per lui e ad accompagnarlo nelle fiere del libro che lui teneva in tanti posti nel mondo e per me fu meraviglioso perché potei intanto cominciare a collaborare con lui e rendermi conto che per me il lavoro era bellissimo perché mi dava una grande libertà, mi faceva sentire importante, autonoma e soprattutto perché attraverso tutti questi editori di tanti paesi che io incontravo, perché mio padre vendeva libri illustrati in tutto il mondo, io avevo la possibilità di confrontarmi con punti di vista ed emozioni e tradizioni diverse dalle mie e questa curiosità per le tradizioni altrui mi è rimasta ed è alla base della mia passione per i viaggi. Assolutamente, ed è un grande viaggiatore Geronimo Stilton. Allora io so che c'è una domanda la quale lei tiene in modo particolare e per un giornalista sembra una delle domande più banali. Ogni tanto non è detto che la banalità in realtà nasconda una profondità e una bella prospettiva. Come è nato Geronimo Stilton e perché? Dunque, Geronimo, tanti sanno chi è ma non tutti conoscono la sua storia vera, segreta e meravigliosa e io oggi ve la racconterò, la condividerò con voi perché per me è sempre molto commovente parlarne. Tanti anni fa io scoprì di non poter avere figli e per me, dico la verità, fu anche un momento difficile e molto doloroso. Però io decisi che avrei reagito e cominciai a cercare un modo alternativo di esprimere il mio istinto materno. All'epoca c'era un medico americano, Patch Adams, che si vestiva da clown con un naso rosso per donare un sorriso ai bambini. Io quando lesse la sua storia mi dissi, questa è un'idea fantastica, come potrei anch'io donare un sorriso ai bambini in ospedale? Perché nel frattempo avevo cominciato a fare volontariato in un ospedale per bambini e poi mi dissi, il clown non lo saprei fare, però potrei scrivere delle storie molto divertenti per rallegrarli, perché nel frattempo mi ero accorta che i bambini malati hanno ancora più bisogno di ridere o almeno di sorridere. E fu così che nacquero queste storie molto divertenti per rallegrare i ragazzi, molto avventurose per tenere viva la loro attenzione, ma anche e soprattutto delle storie con tantissimi valori etici. Prima di tutto la speranza, perché era la speranza di cui quei ragazzi avevano bisogno, ma ne avevo bisogno anch'io. Per cui fu proprio un bellissimo momento di condivisione, di difficoltà, di dolore, ma anche di emozioni positive che poi si trasformarono in qualcosa di bello, in un'amicizia e soprattutto nella speranza. Certo, Geronimo Stilton è un topo, un po' pasticcione, un po' buffo e questa è una tosse che ormai siamo... Ma non c'è problema, assolutamente, è la stagione, è raffreddata. Sono venuta perché ci tenevo tanto a essere con voi. Infatti, ma guardi, noi la prendiamo anche con la tosse, perché la tosse dimostra anche che siamo fragili, esattamente come era l'autrice di Geronimo Stilton ed esattamente in fondo com'è un po' Geronimo Stilton, che si muove in una redazione, il direttore, ricordo per chi, ma sono pochissimi, non lo sa, il direttore dell'Eco del Roditore, vive mille avventure che ha vissuto anche la sua autrice e, dicevo, è un topo, un antieroe, possiamo dire, pasticcione, che però alla fine se la cava sempre. Che cosa le interessa dell'antieroismo? Allora, Geronimo è timido, tenero, buffo e conquista l'affetto dei suoi lettori perché loro riescono a identificarsi in lui proprio grazie alle sue debolezze, al fatto che non è un eroe perfetto. Eppure, conoscendo le sue debolezze e chiedendo spesso aiuto ai suoi amici, perché chiedere aiuto è un segno di forza, non di debolezza, lo dico sempre ai ragazzi ed è una cosa che faccio anch'io, chiedendo aiuto ai suoi amici e collaborando con loro Geronimo è sempre vincente. Per cui i ragazzi ci scrivono tantissime lettere chiedendogli dei consigli e per esempio chiedendogli, ma se volessi venire a trovarti sull'isola dei topi, devo prendere l'aereo, il treno, dimmi, perché così dopo io mi organizzo, lo chiedo alla mia mamma. E noi ci siamo resi conto che Geronimo per i ragazzi è davvero vivo e questa era la mia speranza, perché per me Geronimo è vivo, tant'è vero che firma i suoi libri, in copertina c'è il suo nome. E quindi i ragazzi percepiscono in lui qualcosa che, al di là dell'autorevolezza dell'eroe letterario, percepiscono in lui un vero amico che vuole bene a tutti i suoi lettori e che cerca, con questi valori che è esplicita nei suoi libri, con leggerezza, cerca veramente di aiutarli a vivere meglio, perché i ragazzi di oggi hanno tantissimo bisogno di valori e siamo noi adulti che dobbiamo cercare di offrirglieli, ma nel modo giusto, non imponendoli dall'alto come una lezione, da una cattedra o come un'imposizione. Sono dei valori che è bello condividere con i ragazzi in tanti modi, facendo volontariato insieme nella natura o magari leggendo un libro di Geronimo, ma in tanti altri modi, sostanzialmente dando loro l'esempio. Elisabetta, perché fra tanti animali lei ha scelto il topo? L'uomo ha sempre raccontato se stesso, prendendo a prestito, degli animali, il principio della favola. Perché proprio il topo? Il topo a me piace perché è molto curioso come me, come i bambini e la curiosità è ciò che sta alla base della capacità dei ragazzi di imparare così in fretta. Ed è il motivo per cui quando noi vogliamo educare i ragazzi dobbiamo partire dai più piccoli, perché i bambini piccoli sono come spugne che assorbono tutto, il bene e il male. E se noi riusciamo fin da piccoli a fornire loro dei buoni valori, dei valori semplici, universali, fondamentali, niente di complicato, ma valori che le diano loro forza e che li rendano meno vulnerabili e più pronti ad affrontare le difficoltà della vita, crescendo diventeranno poi degli adulti responsabili e consapevoli. Io parlo sempre molto volentieri di valori, ma per tornare sugli animali, io adoro parlare con la voce di animali, Geronimo è un topo, ma ho scritto libri anche con... Billo e Bill, gli orsetti, il lupo, per esempio, poi ci arriveremo. E poi in futuro vorrei tanto parlare con voci di altri animali, perché gli animali, che infatti i bambini amano molto, sono amici speciali perché non ci chiedono niente, ci accolgono come siamo, ci accettano senza giudicarci e ci danno tutto il loro cuore, non mentono mai e ci ricordano l'importanza dei sentimenti autentici. Anche i topi sono così, a me sorprende che amiamo i topi nei libri, amiamo i topi nei cartoni animati, invece si tende ad odiare e a disprezzare i topi nella realtà, si dice che siano portatori di malattie, il che è anche abbastanza comprovata la cosa e durante per esempio certe dittature il topo viene rappresentato come un sordito approfittatore, per esempio. Invece nei libri abbiamo l'esempio di Mickey Mouse che risale nel 1928, abbiamo in Ratatouille c'è un topo fantastico, abbiamo il topo Gigio, insomma davvero ce ne sono tantissimi, c'è Geronimo Stilton, perché odiamo i topi nella realtà e li amiamo nei libri? Allora, in realtà non tutti sanno che nell'ambito dei roditori ci sono i mus musculus, che è il topolino di campagna che ci fa tenerezza e poi c'è la rattus norvegicus, che è un ratto e sono animali più grossi, più aggressivi e che possono anche portare delle pestilenze come è già successo storicamente, quindi in realtà è un pochino, quando si parla di topi è un po' come parlare di un gatto e un leone, tra il mus musculus e il ratus norvegicus c'è una differenza enorme, anche se ambedue sono roditori e si possono identificare come topi, quindi è un mondo interessantissimo e se ci sarà tempo poi vi racconterò di più perché i ragazzi me lo chiedono sempre, ovviamente. Comunque abbiamo visto che c'è una diacenza totale, si può sovrapporre Elisabetta Dami a Geronimo Stilton, su questo non ci sono dubbi, amate i libri, avete entrambi scalato il chili mangiaro raggiungendo la quota di quasi 6.000 metri, pur avendo entrambi per esempio le vertigini, allora forse pochi sanno che la signora che io ho davanti che parla con questa pacatezza, in realtà è un po' una pazza perché ha fatto la Parigi Dakar in auto, paracadutista, brevetto d'aereo, la maratona di New York tre volte, la maratona nel Sare lì sono cento e cento venti chilometri, in quattro giorni e mezzo, anche lì ci ho scritto un libro, come si spiega praticamente che questa anti-eroe accetta queste sfide, ci si butta a capofitto, dove va ad attingere le forze per queste fatiche in mani? Dunque, prima di tutto come Geronimo anch'io sono un anti-eroe, sono una persona normalissima, neanche tanto atletica, ma io adoro le sfide, per cui anche Geronimo quando se ne sta tranquillo a Topazia, nell'isola dei Topi, nel suo ufficio all'eco del roditore, spesso viene travolto da amici e parenti da trappo, la sua sorella Thea, Iena, Ficata Susquite, che gli dicono devi assolutamente accompagnarci e all'inizio Geronimo cerca di dire di no, però poi quando c'è quella frase magica, abbiamo bisogno di te, Geronimo dice essere amici, leali e sinceri vuol dire anche esserci quando gli amici hanno bisogno, vuol dire ascoltare le loro necessità e allora parte per queste avventure mirabolanti che in realtà io cerco di vivere il più possibile, io non resisto alle sfide, per cui nel mio piccolo, per quello che posso, eppur non essendo assolutamente atletica, io incoraggio tutti ad accettare delle piccole e grandi sfide nella loro vita quotidiana, da adesso in poi, perché la vita è veramente come noi ce la scriviamo e ogni vita può essere una fiaba lieto fine, come è stata la mia, che io sono diventata poi la mamma di milioni di bambini in tutto il mondo, quindi ho realizzato il mio sogno. Noi abbiamo delle immagini che testimoniano, un'istantanea, qualche secondo, che raccoglie e quintessenza un po' il suo percorso esistenziale, vediamo. Isabetta D'Amico, i bambini amati, in questo caso, eccoci, è qui il Chilimangiaro. 5.895 metri indimenticabili, questa è la maratona di New York. Che cosa si vede da 6.000 metri di quota? Quando andai io, questa è una storia vera, c'era una tempesta tremenda per cui rischiai la pelliccia, come direbbe Stilton, questo è il mio papà. E questo è il papà, esatto. Ma fu un'esperienza straordinaria, che mi confermò una cosa, anche persone normali come me possono fare di tutto, perché in fondo non ci portano i muscoli, ma ci porta l'autodisciplina, la costanza, l'impegno e l'autodisciplina è una cosa che mi insegnò mio padre. Io lo racconterei volentieri ai ragazzi, perché per me fu molto formativo. La disciplina conta. Lei, per esempio, è stata adottata da un clan, una tribù. Sapete anche questo. Una tribù, sappiamo anche questo, di nativi del Nord America, la tribù dei Cirochi, nel clan del lupo. Nel clan del lupo. Che caratteristiche umane bisogna avere per essere accettati ed essere adottati da una tribù di nativi del Nord America? Questa è una domanda che i ragazzi mi fanno spesso, perché sono affascinati dal fatto del clan del lupo, dei Cirochi. In realtà sono loro che ti scelgono, quando ti conoscono un pochino meglio. Mi scelsero perché mi dissero che apprezzavano l'impegno che io mettevo nella mia vita, che avevo dedicato la mia vita a scrivere per i ragazzi delle storie belle e buone, che li aiutassero a crescere. E mi spiegarono che lo storyteller, il raccontastorie per i nativi americani, ma per tutti i popoli dell'antichità, era molto importante perché era lui l'educatore. Lo storyteller era quello che con delle storie potenti, anche se semplici, belle e buone, aiutava i ragazzi a conoscersi meglio e a riconoscere le loro emozioni, accettarle tutte per imparare e gestirle. Perché le storie sono potenti, perché ti aiutano a conoscerti meglio e ti insegnano poi il senso della vita. Il lupo rappresenta l'indomabilità della natura. Ovviamente Geronimo Stilton, che è sempre a vivere avventure, lo vediamo a galoppo con Napoleone, oppure in volo con Leonardo da Vinci, Crociere sul Nilo, Nell'Olimpo, insomma ne ha fatti di cotte e di crude. La natura è molto presente in Geronimo Stilton, nei suoi libri e nel cuore di Elisabetta Dami. Una natura che a volte non può essere domata, una natura che per lei è sempre meravigliosa. Però leggendo altri libri di altri autori, penso a Leopardi per esempio, la natura è una natura matrigna, una natura indifferente alle tene umane e addirittura la natura può diventare anche violenta, per esempio in Cormac McCarthy per dirne uno. Questa sua visione ottimistica nei confronti della natura traballa mai quando la natura si fa dispensatrice di dolore e di sofferenza, magari proprio con i bambini. Certo, io cerco sempre di dire ai ragazzi che noi facciamo parte della natura, siamo inseriti e proprio per questo dobbiamo avere rispetto per l'ambiente, ma anche amore per la natura. Ritengo che sia importantissimo impegnarsi per il futuro del pianeta, perché noi non siamo i proprietari della Terra, ma ne siamo i custodi, i guardiani e dobbiamo trasmettere il pianeta alle generazioni future. Abbiamo veramente una responsabilità nei loro confronti. Io sono consigliere nazionale WWF, secondo mandato, mi hanno anche rieletto, ed è un impegno che io prendo molto seriamente, faccio volontariato in varie osi WWF, sono andata a raccogliere la plastica sulle spiagge o a liberare i ricetti nell'osi di Vanzago, ma vado anche a formare i giovani del WWF. Per me la natura è una cosa meravigliosa che a me dà tanto, anche perché nella natura si trova molta serenità. La natura ci si può perdere, allora cosa si ha bisogno quando ci si perde nella natura? Per esempio una bussola. Questo è un cestino che ci ha portato lei molto gentilmente, adesso non vorrei romperlo, si apre così. Eccoci. Allora, cos'è questa Elisabetta Dami? Che bussola è? Questo è il cesto delle emozioni, come lo chiamano i ragazzi, contiene tanti oggetti che per me sono speciali, perché mi ricordano delle emozioni da trasmettere ai lettori. Questa è una bussola d'oro, perché i valori etici fondamentali e universali di Geronimo sono come una bussola d'oro che nei momenti difficili della vita ci aiutano a trovare sempre la direzione giusta e i valori di Geronimo sono prima di tutto la creatività rappresentata da questa penna d'occa con la quale la regina delle fate scrive le sue storie, i valori di Geronimo che possiamo vedere qui. Questo è il primo pupazzo mai realizzato che io ho conservato per affetto, per tenerezza. I valori di Geronimo sono lealtà, onestà, sincerità, generosità, solidarietà e pace. Prima di tutto, pace perché tutti i ragazzi e le ragazze del mondo hanno il diritto di vivere in pace e dovrebbero poter vivere secondo la loro età, serenamente. Hanno il diritto a essere protetti, ascoltati e amati in tutti i paesi del mondo. Poi vedo, estraendo da questo cestino delle meraviglie, è preziosa. Cos'è? Ecco, New York City Marathon, su 42 chilometri, giusto? 42 chilometri e 195 metri. E 195 metri. E' una che testimonia appunto la sua partecipazione. Sono arrivata in fondo, perché la medaglia la si dà solo a chi arriva in fondo. Però io dico sempre ai ragazzi che l'importante è sempre partecipare, non vincere e divertirsi insieme agli altri, possibilmente condividendo anche un sorriso, perché un sorriso rende sempre più lieve tutto quello che si fa. Elisabetta Dami si sorride bene quando una propria storia che è nata così, nel proprio cuore, per una cosa traumatica, che una donna vive l'impossibilità di vivere la maternità. Ecco, questo genera un successo impressionante, che è mondiale. Sono 49 le lingue, 50 le lingue. 52. Ecco, si aggiunge, sembra ormai il record da cuore sempre. Abbiamo anche il latino. Ma poi lingue stranissime. Si diventa anche ricche, con 184 milioni venduti. No, non lo so come funziona. Io sono molto grata a tutti i miei lettori e le mie lettrici e quando posso, lo ripeto, perché grazie ai libri venduti posso sostenere la fondazione Geronimo Stilton, che è stato il mio modo di restituire tutte le cose meravigliose che ho ricevuto. Ed è anche il modo mio per Geronimo di dare un pochino l'esempio e dire ai ragazzi ricordatevi sempre anche degli altri. E la fondazione Stilton sostiene ragazzi e ragazze in Italia e nel mondo in progetti legati all'istruzione, alla salute e alla natura. Allora, noi abbiamo ancora un po' di tempo, in questo 24 dicembre meraviglioso, per vedere qualche immagine di un film che lei ha voluto portare. Se il mago di Oz è del 39, questo è un film del 46 e lo firma Frank Capra. Non mi importa di quello che accadrà. Ridami mia moglie ai miei bambini. Aiutami, cari. Ti prego, voglio tornare a vivere. Ehi, George. George, ma cosa avete? Che vi è successo? Levatevi, ti torno, mi prendo di nuovo a pugni. Via! Perché diavolo sta torrando così, George? No! George. Bert, mi riconoscete? A riconoscermi? State scherzando, ho girato tutta la città per trovarvi. Ho visto la vostra macchina sotto per albero laggiù e ho pensato di sanguio alla bocca. Ma che vi è successo? Cosa? Mi stermi dalla bocca, Bert! Mi stermi dalla bocca! Aspettami! Eccolo qua! Bert! Mi hai ridato la vita! Buon Natale! Buon Natale! Perché la vita è meravigliosa? Si vuole salutare così. È sempre meravigliosa la vita. Ogni giorno è un dono nuovo di cui noi dobbiamo essere veramente riconoscenti e viverlo con pienezza, con entusiasmo, con umiltà e cercando di volerci tutti bene. Perché l'umanità è veramente una grande famiglia. Se noi ci volessimo tutti bene, viveremmo veramente molto meglio. Questo è un film che ci ricorda dal titolo La vita è meravigliosa e che ripesca proprio il 24 dicembre. La vita è meravigliosa, Elisabetta Dami? Sì, ogni giorno è un dono nuovo da affrontare con entusiasmo, con umiltà e con tantissima gioia. Quindi ci salutiamo come ci saluterebbe Geronimo Stilton con... Formaggiosi auguri a tutti da me e da Geronimo Stilton. È benissimo. Grazie. E formaggiosi auguri a tutti voi per questo 24 dicembre, vigilia di un Natale. Speriamo meraviglioso per tutti. Buona serata. Buona serata.